No, è triste, cambiano. Mi vuoi uno più allegro? Sì. Questo è molto più eccitante. Ecco. Più forte, più forte. Più forte? Molto bene. Voglio tutto volume. Ora ballerò per te. Allora che facciamo? Sono lezioni di ballo? L'aula mani è di sopra. Fatti trovare in cappella. Agli ordini. Scelta, 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 scelta. Scelta, 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 scelta Grazie.